Assessore, qual è la situazione per quanto concerne i lavori in fase di prosieguo del sottopasso di Villa Pavone? I lavori da quello che sto stanno proseguendo sono a buon punto. Avremo nella prossima settimana un incontro, un sopralluogo con RFI e la ditta che sta eseguendo i lavori. Nel frattempo la Giunta Comunale ha approvato una delibera per l'approvazione di una variante alla rotonda che è necessaria per il completamento dei lavori. Questa bretella è fondamentale perché altrimenti non avrebbe senso la rotonda che stanno realizzando e servirà di raccordo fino per la strada parallela al cimitero. Dopo di ciò sapremo dare anche un cronoprogramma definitivo per quanto riguarda la fine dei lavori che noi auspichiamo che si termino per la fine di marzo. Dopodiché questa amministrazione avrà gli occhi puntati nei confronti di RFI per fare in modo che tutte quelle strade che hanno dovuto sopportare un carico eccessivo per questa chiusura e che hanno subito dei danni siano ripristinate così come erano. Penso a Via Biondi che come sappiamo ha delle fortissime criticità, dovrà essere rimessa in quota a rifare l'asfalto. Quindi staremo attenti anche in queste cose perché è il compito nostro dell'amministrazione. Dunque per quanto concerne la bretella c'è stata l'approvazione quest'oggi in giunta. A questa bretella quale percorso avrà? Questa bretella prenderà il ricorso quindi alla fine della rotatoria, si ricollegherà alla strada quella principale che porta al cimitero, quindi al primo fioraio che noi troviamo su dal cimitero. E la finalità? La finalità è per rendere migliore il traffico in modo tale che non ci sia un sovraccarico alla linea superiore.